... della sua scuola, ricordiamola, è molto importante questo, l'afrodanza che si trova in via San Giovanni a Cagliari. Ancora un ballo che ha delle inflessioni peraltro africane, quindi ancora Donatella Padiglione con due sue ballerine che vorrei che si presentassero qua sul palco se vogliono. Prego, Donatella, ci siete? Eccole qua. Bene, io ve le lascio perché tanto lo spettacolo in questo momento sono solo loro. Donatella Padiglione e la sua scuola. FLYING COPPLE 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 Grazie a tutti.